Buongiorno a tutti, oggi vi voglio far vedere come guadagnare puntando sul tennista che batte nel tennis facendo un po' di scalping di qua e di là, inizio con 100 euro puntandolo su Gere e attendendo che il tennista tenga la battuta io poi uscirò come vediamo già le quote si stanno scendendo, si vede dal cashout che è in positivo poi quando la forbice si amplia inizia a scendere il cashout ma anche se siamo comunque in vantaggio noi perché ha fatto un 15 come vedete quindi 2,12 ha 1,96 adesso 2,02 si sta lineando a noi non interessa questa cosa perché poi andremo a prenotare l'uscita quando terminerà il suo turno di battuta così faremo su anche otte e così andare per riuscire ad ottenere comunque un profitto di almeno 30 euro circa equivalente comunque a un giorno di lavoro di un comune operaio e non è poco questo cercheremo di farlo in breve tempo perché come dico sempre fare il trading sportivo non vuol dire stare 8 ore davanti al pc altrimenti facevo il dipendente con meno rischi ma è guadagnare sì di più certo ma avere molto 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 più tempo a disposizione per tutto quello che ci può interessare nella vita ok la prima battuta è stata tenuta infatti come vedete ho già fatto l'uscita cercando di uscire a 1,90 e nel frattempo che abbina io mi posiziono dall'altra parte per non perdere il turno di battuta ok abbinati entrambi sia il punta otte che il banca GR di uscita ora attendo sempre la solita cosa quindi aspetto che il tennista comunque tenga la battuta per poi uscire come vedete già c'è comunque un buon profitto sul cash out ma noi comunque abbiamo un obiettivo giornaliero che è quello di prendere i nostri 30 euro che fanno circa 900 euro al mese più o meno uno stipendio basso sì alcuni non lo raggiungono neanche però ma con quanto? mezz'ora del nostro tempo giornaliero? secondo me non è poco altra battuta tenuta prenotiamo l'uscita e vediamo sempre se ci viene abbinata questa volta 1,97 perché siamo partiti da comunque un punta più alto per il momento il favorito è GR non è otte anche se otte comunque in questo tornerò l'anno scorso si è comportato molto molto bene sull'erba poi la facilità di tenuta del servizio è molto alta vediamo se non ci abbina altrimenti andremo a spostarci per non perdere comunque l'uscita ora è 40,15 ma probabilmente terrà il servizio poi ci sarà la pausa perché i giocatori si siederanno quindi avremo comunque il tempo di attendere ok vedo che comunque le quattro usciranno all'1,98 e 1,99 quindi l'1,97 sarà molto improbabile vediamo se usciamo a 1,99 e farci abbinare nel frattempo è salita 2 comunque sta salendo e quindi noi usciremo la quota disponibile anche se il profitto è minore ma è sempre profitto ok ora dobbiamo fare la stessa cosa con Gere quindi con il tennista che in questo momento è favorito sempre i nostri 100 a 1,98 vediamo se ci riusciamo a rubare questo tic per poi tenere comunque sempre la battuta e uscire a fine battuta ripeto che il nostro obiettivo è 30 euro giornalieri quindi 30 euro da fare e poi uscire perché fare il trader vuol dire riuscire ad avere più tempo e non più denaro anche se poi si guadagna comunque di più allora io pronoto già perché pressa poco prima la quota è stata abbinata così quindi già mi metto in prima fila perché ricordo che i soldi che vedete sotto sono in pronotazione e vengono abbinati in base al momento di pronotazione quindi chi prima arriva meglio alloggia io cerco di farmi abbinare prima possibile così da uscire per primo come vedete sotto 1,90 ci sono solo i miei 100 euro poi stanno arrivando anche comunque altri ma io sono il primo e quindi probabilmente quando tocca 1,90 qualcuno l'acquista io uscirò anche se la battuta non è terminata ma a me non interessa perché mi pongo questo obiettivo quindi puntare 1,98 bancare 1,90 ora attendiamo sempre che il tennista quindi già con 0,30 siamo già ok abbinati basta quindi già con 0,30 probabilmente potevamo fare qualche tic in più ma non ci interessa l'importante è la speculazione come vedete noi abbiamo già un 14 euro di profitto su il cash out anche se come vedete è spalmato con 20 euro su 21,97 euro su gire e 6,74 euro su otte ma poi al momento dell'uscita totale quando finirò di fare questa speculazione farò cash out e li spalmerò e non mi interesserà più nulla quindi sia se vince otte sia se vince gire io mi porterò a casa i miei soldi i soldi che in quel momento ho ottenuto ora attendo che termina il turno di battuta è scesa bene perchè comunque ha tenuto un buon servizio a zero quindi potevamo farci abbinare anche presto a poco un 88 un 87 sicuramente ma a noi non importa ora la prossima battuta quella di otte sarà secondo me a 2,10 2,12 da farsi abbinare ma vediamo un po' a fine battuta cosa cosa riusciamo a prendere sempre 14,71 euro abbiamo di cash out che è già un buon profitto perchè è metà quasi del nostro take profit per chi non lo sapesse il take profit è il target giornaliero cioè quello che noi ci aspettiamo di fare quello che noi vogliamo fare è il nostro obiettivo giornaliero di profitto come vedete 1,88 si non potevamo farci abbinare circa 1,88 vince di 1,90 ma non interessa quindi ok turno di battuta siamo a 2,14 2,12 vediamo se riusciamo a farci abbinare ok e ora attendiamo sempre la conclusione della battuta al fine della battuta di otte si fermeranno di nuovo i tennisti si siederanno e quindi avremo comunque una piccola pausa e non la frenesia di andare di qua e di là per riuscire a farci comunque abbinare l'uscita come vedete riusciremo a uscire già a 2,04 avendo la presa 2,14 ma attendiamo un attimino fin dove riusciamo ad arrivare già il cash out è arrivato a 18,44 ottimo profitto 30,0 anche questa battuta teoricamente andrà liscia stiamo scendendo sotto il 2 come come bancata vediamo se riusciamo a farci abbinare a 2 almeno chi si accontenta gode disse 1 e infatti noi godiamo 20 euro raggiunti in cash out ora ci sarà la pausa noi andremo di nuovo su gere per fare la stessa cosa che abbiamo fatto finora quindi puntarlo e bancarlo a fine battuta o comunque a una quota decente di uscita appena termina intanto poi ci sarà una pausa abbiamo tutto il tempo di inserire la nostra puntata ok allora noi potremmo c'è una forbice 1,99 2,04 e noi potremmo andare sempre a farci puntare farci abbinare a 2 vediamo se ci si è riuscita adesso è sceso anche a 2,02 vediamo se ci abbinano a 2 così riusciamo a rubacchiare un tick che ci serve per aumentare il nostro profitto poi di uscita altrimenti andiamo a scendere anche 1,98 comunque è un'ottima quota perché poi ricordiamo che finora è scesa 1,90 1,88 sono comunque 10 tick o 8 tick la quota non si muove vabbè andremo a prenderla noi manuale non tutto ancora ci ha abbinato solo 20 vediamo prima che inizia a battere se ci può abbinare tutto altrimenti scendiamo ancora ok 1,99 e ora attendiamo che prima di tutto inizia a battere e che poi finisca ci posizioniamo al nostro solito 1,90 quindi ricordo che l'obiettivo è quello di fare sulla trentina di euro uno stipendio base mensile quindi una giornata di trading equivale ad un obiettivo di 30 euro che equivale comunque a una mensilità di un operaio molti non riescono neanche ad arrivare a questa mensilità sta comunque tenendo 30 1,90 quasi abbinato tutto e anche qui siamo riusciti a uscire quasi anche questa volta ok vedete siamo a circa siamo già a 30 su GR 19 su 8 e siamo comunque al nostro target 25 euro comunque sono parecchi soldi non è proprio male con questa ultima teoricamente andremo in target quindi faremo il nostro take profit e riusciremo a poi a far cash out e a terminare sessione di trading sessione giornaliera per chi ha l'obiettivo di 900 euro al mese 1000 euro mese e anche questo video poi vedo già un ottimo score 30 0 quindi diciamo che posso anche se tra pattone di dice non dire gatto se non ce l'hai nel sacco io direi già gatto a questo punto con 30 0 sull'erba recuperare è un po' improbabile però vediamo perché non c'è ancora abbinato me ne sto accorgendo ora ecco ok quindi il nostro 15 che prima era una cosa negativa adesso è stato positivo perché è tornato sulla quota e quindi ci ha abbinato quindi ben per noi uscita a 2 la nostra solita quota di uscita e come vedete 27,30 come profitto 40,15 sì comunque ci siamo come vedete io potrei fare anche cashout ora ho 26 euro quindi 27 in questo momento ok tenuta la battuta buona ragazzi io ho raggiunto l'obiettivo dei 30 euro 28,98 ma non importa l'importante è il video e vi ho fatto vedere come far trading che l'obiettivo l'obiettivo